E siamo andati a Puglianello, alle Forche, dalla Carmen Zanti, che lei era una delle organizzatrici e che era nel partito da anni col padre, era stata in Francia, eccetera, il famoso Zanti che poi ha fucilato alla Zucchi. E lei, il partito, le aveva dato il compito che lei a Modena, era poi già organizzata con Modena, aveva già dei contatti con Modena. Lei sì che andava già, che trasportava già delle armi un po' in giro. Lei e mia cognata, la Viana Isile. E siamo andati là e con lei mi sono messa d'accordo, al mattino siamo passati da casa, che non c'era nessuno, perché erano tutti riuniti in una stalla, non c'era neanche mia madre. E ho preso la bicicletta e un po' di roba, poi sono tornata a San Bartolomeo, perché a star lì non mi fidavo, perché se c'era qualcuno che faceva la spia. E al mattino sono partita, sono andata a prendere la Zanti e siamo andati a Modena. Siamo andati a Modena in bicicletta. Mi ha portato da Alfeo Corassori, dove là ho trovato il famoso avvocato Poppi. E là ho incominciato, da quel giorno, la lotta partigiana, la vera lotta partigiana. Io ho conosciuto da lì la vera lotta partigiana. Con i partigiani mi sono trovata una sorella. Cioè, diciamo che ero come sua sorella. Sono stata, diciamo, benvoluta da tutti, rispettata da tutti. Una cosa meravigliosa. Nelle famiglie, che in una in particolare, che in una in particolare ci sono state cinque o sei mesi, una famiglia di contadini che abitavano a Saliceta San Giuliano, che erano... mi sentivo a casa mia. E loro non sapevano neanche da dove venivo, perché credevano che venissi dalle montagne bolognesi. Dopo la guerra hanno imparato che ero una reggiana.